ricaricare l'auto dalla presa di corrente di casa o alla presa industriale è possibile il sistema di ricarica permette la massima flessibilità sia che vi troviate nella vostra abitazione o altrove e-tron charging service offre l'accesso a uno dei più grandi network di ricarica pubblici presenti in europa avrete la possibilità di ricaricare l'auto elettrica in oltre 200.000 punti di ricarica presenti in 16 paesi europei un numero destinato a crescere